Nell'ultimo mese di parole ne abbiamo detti alcuni e di lettere forse ne abbiamo scritti a me. Nel condividere quanto è stato già detto e quanto è stato scritto noi tutti stamattina vi vogliamo dire una cosa sola. Grazie che siete passati di qua e con l'augurio che forse un giorno ci ricondiremo. Grazie. 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 Grazie a Dio. Grazie a Dio. Grazie a Dio. grazie 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 donna una domanda io mi prego stesso anzi io sono anzi e noi quando mi metterò da l'italia diciamo questo mi faceva ma non scelgo passalo sì grazie 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 Grazie, 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 grazie. Grazie, 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 grazie di tutto. grazie 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 non discutiamo mai le tette grazie 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 Grazie, grazie. Grazie. Se non ci fossi stato tu, io non avrei visto mai, quindi non è. Adesso ti dico una cosa, adesso ci ricordo, crederò negli uomini di Dio, ma le gerarchie militari che hanno fatto la Chiesa non ci vedrò a mano. Grazie. 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 Grazie per averci insegnato a stare in giro. Grazie. 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 Ti voyamo a prendere. Grazie. Grazie. Esserverà lo spazio. Grazie. Quanto hai sempre l'esergo volto? Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.